Subito, generazione PDL. Ieri Gianfranco Fini ha detto a una lezione del mercato che le ideologie sono nuove, ma le idee continuano a esistere. Qual è il ruolo per i giovani all'interno di questo concetto? Io direi, capovolgerei la domanda. I giovani sono la ragione di questo. Perché il PDL ha un senso, solo se diventa un protagonista della vita politica. E dunque diventa anche il partito che i giovani potranno utilizzare per modernizzare questo concetto. Se no, è una varia eventuale. Ed è un mero strumento che ognuno di noi utilizza, se mi permette, sempre per piccole ambizioni. Si è parlato in un contesto culturale della reinterpretazione storica del ruolo di Grazia. Ma si tratta di un carnetto? Grazia è stato il protagonista della vicenda politica italiana. È stato quello che per primo ha porto un accordo storico tra comunisti e democraziani, per il quale non c'era alcun posto per la destra e anche per chi appunto la pensava diversamente. Grazie, visto storicamente, ha questo merito. Poi ha anche tanti grandi limiti. Io penso a questo. E posso dirlo con una immagine. Grazie a quello che ha levato la pietra sotto l'edificio del vecchio sistema, che in realtà era già pericolante, perché era stato reso pericolante dalla scuola. Non ha avuto la forza, il tempo, il coraggio per spassarsi. E l'edificio gli è capitato a questo. E quindi è diventata la vittima della sua stessa azione. Mi ringraziamo il senatore e lo invitiamo a considerare questo.